benvenuti in un nuovo video unboxing del conclave oggi siamo qua con il car come al solito per fare l'unboxing del... dunque siamo arrivati al terzo chapter del nuovo ciclo la danza delle ombre quindi nuovo ciclo questo in particolare si chiama per le vie di approdo del re e siccome è estate hanno fatto il chapter turistico quello tipo un giro a dubrovnik esatto esatto allora come al solito ragazzi soliti di screamer noi andiamo in ordine di numerazione delle carte trovati i link rapidi per saltare alla parte dove facciamo commento di ogni singola carta nell'info box qui sotto e detto questo direi che abbiamo detto tutto all'interno c'è il solito fantastico flyer ragazzi facciamo vedere è sempre lo stesso semplicemente spiega la meccanica ombre perché il ciclo è quello il ciclo questo quale abbiamo visto la meccanica già negli ultimi due chapter sta diventando interessante ci sono ancora poche carte ombra per le varie casate però man mano che escono diventano diventano diventerà sempre più interessante iniziamo subito come al solito partiamo con gli stark ovviamente ovviamente quindi la prima carta è abbiamo un lealista amber un personaggio non unico fedele però con costo 3 forza 3 icona militare potere e tratti casa amber ha una interessante reazione e una interessante interruzione obbligata ovvero la reazione dopo che il lealista amber è entrato in gioco pesca due carte è fortissima come reazione cioè paghi 3 costa 3 si entra in gioco peschi due carte è fighissimo peccato no vabbè in realtà è bella lo stesso secondo me interruzione obbligata quando il lealista amber esce dal gioco scegli e scarta due carte dalla tua mano quindi lui ti dà due carte e poi se per caso dovesse uscire dal gioco che cosa che penso visto che è un soldato inutile probabilmente uscirà dal gioco per vari claim militare o quello che è devi scegliere scartare due carte dalla tua mano è vero quindi certi ti fa vantaggio carte quando lo giochi e poi quando lo perdi diciamo così il vantaggio carte viene perso però puoi farlo quando sei a mano più o meno pelata cioè tu lo giochi in schieramento magari peschi due carte le giochi la tua mano magari è vuota sai cosa non mi piace di questa carta qua che costa 3 e quindi sarà una specie di carta una carta ciclo per fare mega ciclo con della mano ovviamente mega ciclo di carta della mano con un frebotto beh è vero però comunque lui vuol dire che entrati da due carte poi esce dal gioco e te ne devi scartare due se non le usi in fase sfida mi rendo conto che ormai tipo il mio giudizio su certi tipi di personaggi è in funzione del fatto che siano giocabili con frebotto non ho sì invece io mi rendo conto di una cosa è un po è un po secondo me è un po preoccupante cioè nel senso è abbastanza direi ma non solo io invece mi rendo conto di un'altra cosa che però dirò poi alla fine diciamo quando facciamo la parte va bene bella onesta dovete dovete seguire tutto il video allora la seconda carta star che è porto bianco dopo aver visto il panzone mandali arriva giustamente casa sua suato bianco quindi è una location unica corso 3 fedele tratto casa mandali al nord a una reazione dopo che vinto una sfida rivela due carte dalla cima del tuo mazzo l'avversario sconfitto sceglie una di quelle carte aggiungi quella carta la tua mano e colo caratteri in fondo al tuo mazzo praticamente la versione povera di dorn cioè c'è un piccolo problema questa qua costa un in meno e funziona quando vinci la sfida e non quando le perdi che secondo me è meno è meno forte già molto meno allora allora centomila volte meno forte e costa solo uno in meno di dorn comunque è una bella carta per pescare più che altro il fatto è che titano se ti daranno sempre le carte più fuffa cioè a te ti butteranno sotto ora però le robe interessanti te le butteranno sotto può essere comunque non è malvagia come se lo fai in continuazione vinci 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 non c'è un limite neanche qui purtroppo questa cosa del non mettere i limiti alle carte a me sta un po sul cazzo ma non importa cioè più che altro che ormai abbiamo capito che a lunga diventa un problema di design questa cosa di non mettere i limiti in effetti è il limite purtroppo a chi ci vuole non c'è niente da fare io andrei avanti con le carte Tyrell anche perché questo qua è molto carino è carino nel senso che ti piace il disegno del personaggio no il disegno è fatto bene il personaggio è orrendo il pigro che è disegnato come semmai tipo in estasi che è tipo non so sembra che gli hanno vabbè vabbè o quel che l'è comunque il disegno è molto bello lui è orribile lui come persona è orrenda ora vediamo cosa fa intanto è nata carta ombra si è una carta ombra costo 2 forza 2 naturalmente unico con solo l'icone intrigo non è fedele ha il tratto maestro che va bene sarà un maestro di vecchia città ubriacone non lo so io non me lo ricordo comunque questo tizio ma sotto sicuramente qualcuno ci dirà certo qualcuno ci dirà che a quanto non state attenti eccetera comunque ha ombra 2 quindi esattamente il suo costo quindi marshallarlo o farlo uscire dell'ombra è uguale beh no lo paghi 4 eh però la reazione è data dal fatto che entra nelle ombre quindi dopo che Leo il pigro è uscito dalle ombre scegli un giocatore rimescola un qualsiasi numero di eventi dalla sua pila degli scarti nel suo mazzo ah questo è interessante per bloccare tipo annars in ogni caso o comunque per cioè di solito comunque ma anche per rimescolare i propri oh no li ho finiti bram tutto dentro e ributti dentro non è male fortissimo per tanti come cosa non è male costoso come effetto forse per rimescoli tu però comunque non è male beh rimescoli un qualsiasi numero in realtà ho giocato solo facendolo passare dalle ombre ha anche una roba interessante perché ha ombra x quindi deciderai tu come come fa fedele ha un'azione di sfida cerca nel tuo mazzo x carte diverse e collocala nella tua pila degli scarti poi rimescola il tuo mazzo ok poi scegli un avversario ah ah rimetti nella tua mano x carte la scelta di quello avversario della tua pila degli scarti quindi ho capito ovviamente l'effetto è concatenato ma non è male in realtà paghi x per scegliere x carte diverse e mettere nella pila degli scarti scegli un avversario vabbè normalmente l'unico l'avversario e lui sceglierà quante carte eh no sceglierà x carte sceglierà x benissimo vado a cercare tre carte all'interno del mio mazzo che boh saranno boh Randil Margeri e Gesù per dire sì tu le butti negli scarti se non hai altre carte negli scarti sì certo l'avversario è costretto a darti quelle tre lì se avevi altre carte negli scarti poi ne scegli tre ne scegli tre tra quelle che hai messo tu e quelle che avevi già oggettivamente se hai carte forti negli scarti te ne freghi lo puoi fare anche tranquillamente cioè il fatto è che il numero dell'ombra il numero che decidi di investirci quanti soldi decidi di investirci è importante per la quantità di carte che comunque ti arrivano in mano un evento che direi è fortissimo nelle prime fasi del gioco dopo diventa un po' meno forte però comunque è un tutore bello grosso è carino poi sei comunque il modo di dire senti io prendo delle carte costo due o tre tanto se vanno gli scarti tu non me le ridai ti tornano di flea bottom eh infatti vedi che continuiamo mamma mia oh è un continuo cioè flea bottom non esce da vabbè oh niente condizionale meta eh oggi è più la maniera incredibile vabbè passiamo ai nightwatch passiamo ai nightwatch questo qui è un personaggio interessante abbiamo l'esploratore ingenuo però è ingenuo infatti è un esploratore ma non vede una mazza e dietro c'è uno che gli sta tipo facendo così e lui non se ne accorge guarda la data parte è un costo tre forza quattro con icona militare e intrigo avrà una sfiga aggiunte vietate tranne arma alleato ranger è un ranger quindi va bene così finché ci sono carte nelle ombre l'esploratore ingenuo non può essere dichiarato come difensore cominciano le interazioni di carte non ombra con le carte ombra te le ricordi quelle della prima edizione attenzione che qui non ci devono essere carte in ombra non solo tue ma anche dall'avversario certo non ci sono carte generali nelle ombre ti ricordi il coso il il mega grey joy com'è che si chiamava il fisherman non era il fisherman il bozzuana il bozzuana sì quello lì il rematore i rematori che prendevano meno due in forza per ogni carta che c'era nelle ombre questo qua mi sembra che ovviamente costo forza è vantaggiosissimo cioè diciamo che anche se ci sono carte nelle ombre lo usi per attaccare ed è forte lo stesso e poi abbiamo un'aggiunta nightwatch interessante perché è la prima volta che vedo un'aggiunta con un bonus rendita sì allora è un'aggiunta non unica ma federe che costa uno è un'arma è un oggetto non condizione quindi interessante sono personaggi costruttori attendenti quindi la maggior parte dei personaggi di nightwatch il personaggio con questa aggiunta riceve più uno in forza e in più da uno di rendita non male è un buon attachment overall puoi sostituirlo eventualmente ad attachment che adesso magari non sono più di tanto utilizzati se fai un mazzo alleanza nightwatch cohort con i caproni andate a prendere per dare più uno in forza beh comunque non è male l'uno di rendita guarda che non è una carta limitata uno di rendita non è male poi abbiamo l'equipaggio della valiriana che però è stato già spoilerato abbiamo sperato durante il torneo di torino di torino di pinerolo di pinerolo voglio dire allora lo rivediamo comunque è un personaggio generico a costo 6 forza 5 due icone militare in trigo tratti contrabandiere mercenario ha furtività innanzitutto non è fedele ecco l'unica cosa è che è un costo 6 non fedele non fedele vabbè però va bene lo stesso in realtà il suo effetto è forte allora dice puoi schierare o giocare le carte a faccia in giù assegnate all'equipaggio della valiriana come se fossero nella tua mano quindi avrà un effetto che ti farà mettere le carte a faccia in giù su direi infatti ha una reazione che dice dopo che hai vinto una sfida in cui l'equipaggio della valiriana sta attaccando assegna a recupaggio della valiriana una carta dalla cima del mazzo dell'avversario sconfitto la metti a faccia in giù sotto il tuo controllo come a un'aggiunta con il recuperabile quindi praticamente prendi le carte dalla cima del mazzo del tuo avversario le metti a faccia in giù sulla valiriana come attaccia con il recuperabile senza testo a questo punto sì sì non hanno sicuramente il testo però fino a quelle carte che tu hai messo lì le puoi schierare esattamente come se le avessi in mano beh comunque è molto forte ti fa vantaggio carte giochi con le carte dell'avversario è vero quindi potrebbero essere non sinergiche con la tua con la tua strategia però fa niente intanto ne ne porti via una tra l'altro l'identità della carta l'avversario non la conosce esatto e poi direi la seconda carta allora carta forte per i barateon attenzione perché la seconda è ancora più forte è una la baia delle acque nere è una location unica fedele costo 3 tratto continente occidentale è una reazione dopo che la fase di sfida è iniziata inginocchia la baia delle acque nere per scegliere un avversario peschi una carta per ogni personaggio inginocchiato controllato da quel giocatore che ne pensi? è fortissimo con il vecchio Stannis è gigante con il vecchio Stannis con tutti i rellormi contro i rellormi che funzionano in schieramento con le plot adesso c'è la marcia forzata certo e capace io penso che ti possa fare tranquillamente 3-4 carte ti fa pescare in schieramento sì assolutamente diciamo che allora normalmente anche un mazzo barato è normale diciamo che almeno una carta a turno te la tappa quindi minimo peschi 1 potresti anche pescare 2 probabilmente potresti anche pescare 0 ma in realtà è una cosa che fai in continuazione cioè è una cosa che tu fai è ripetibile quindi il turno che peschi 0 avrai pescato 0 ma il turno dove peschi 3 perché hai giocato una marcia forzata o anche solo una accuse sporche è molto forte passiamo ai Rannister vediamo se ottengono carte belle direi di no no non lo so adesso vediamo allora il primo è un personaggio con ombra si chiama Marionetta non unico è un personaggio non unico che costa 2 e poi è un personaggio ombra con ombra 2 quindi ha forza 1 e intrigo e basta il solito personaggio con intrigo mono lo dovranno mettere mono intrigo ma si va bene così ha una reazione che dice dopo che Marionetta è uscito dalle ombre paga x monete d'oro per scegliere un altro personaggio dal costo stampato pari inferiore a x e li metterlo nella mano del suo proprietario quindi diciamo che per fare things i do for love sì ma molto più costoso molto più costoso perché devi pagare anche 2 per far uscire dall'ombra più ricks eccetera mi sembra veramente bello bello fa schifissimo però chiediamo parere di Nimer sospendiamo il giudizio chiediamo parere di Nimer Nimer dici cosa ne pensi Marionetta qua sotto nei commenti è mono intrigo tendenzialmente gli piacerà esatto andiamo avanti allora vediamo la seconda carta era a miniera d'oro miniera d'oro mica è un ritorno tu te la ricordi golden tooth mine sì però faceva pescare vediamo magari fa pescare pure questa vediamo allora miniera d'oro location non unica giustamente fedele tratto terra d'occidente va bene azione inginocchia miniera d'oro e scatta una carta dalla tua mano per pescare una carta fa pescare ma in maniera brutta ma attenzione questa qua è la location da due fedele del ciclo diciamo così dei lannister sinceramente ciclare beh però ciclare può essere comunque utile alla fine tutte queste carte qua anche quella ti ricordi la scorsa è stata Baratheon quella che spostava i punti sinceramente io l'ho visto utilizzare perché comunque è una location non limitata che ti dà economia sono tutte carine non sono male comunque questa puoi ciclare carte che non ti serve è morto devo dire la verità non è male sarebbe ancora più bella se lannister riuscisse a sfruttare freebotton mentre di solito non ci riesce cioè a me non ho visto molti mazzi che sfruttano bene freebotton ma perché secondo me hanno poca fantasia in realtà il mastino è una delle carte più forti da ciclare con freebotton sicuramente sicuramente però è che forse sono rimasti un po' solo a quello forse sì però forse beh poi anche altre cose non lo so adesso vediamo abbiamo i greyjoy greyjoy con ah cacchio con un beccano un dio abissaria no attenzione c'è deve essere qualcosa di sbagliato c'è un dio abissaria senza potere e con militare intrigo attenzione incredibile sono quasi imbarazzato allora è fedele il fanatico del dio abissale un personaggio fedele non unico naturalmente con costo 3 forza 2 militare intrigo il potere gli è finita nel dimenticatorio tratti di abissale azione uccidi un personaggio buono per mettere in gioco il fanatico del dio abissale della tepila dei morti massimo di una volta per round per carta sai questo non l'ho mai capito adesso te lo chiedo poi interruzione quando gli effetti di una capacità innescata di un personaggio avversario stanno per essere lanciati colloca il fanatico del dio abissale dalla tua mano nella tua pila dei morti per annullare quegli effetti ah è una carta del campione non l'avevo notato si carta del creata da Vincent Teulè campione europeo di mischia nel 2013 ancora siamo ancora sul vecchio si allora non ho capito colloca un personaggio di abissale dalla tua mano nella tua pila dei morti per annullare quegli effetti è un counter per abilità di personaggio e poi eventualmente ti torna per mille amiciate poi farlo tornare dai morti ah io questa leggila tu che io ho paura magari mica che sia come quello vecchio evocatore no dai davvero che palle evocatore di draghi tan 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 no dai che due coglioni costa tre che poi ancora questo benedetto corno non sappiamo se funziona nei romanzi ma va infatti ma no l'unico che lo usa muore male vaffanculo non sappiamo ancora cosa fa farà schifo allora vabbè comunque costa tre non è fedele evocatore di draghi allora oggetto solo personaggi che controlli ok il personaggio con questo aggiunto tiene intimidire e vabbè già però costa tre è una bella cosa sì costa tre io ripeto costa tre reazione dopo che hai vinto il predominio uccidi il personaggio con questa aggiunta per scegliere se prendere il controllo di un personaggio drago oppure cercare tra le dieci carte in cima al tomazzo un personaggio grigioi metterlo in gioco e rimescolare al tomazzo beh è bello forte molto bello molto forte intanto diciamo che quando lo usi per un turno da intimidire il personaggio su cui hai messo poi se vinci il predominio giusto se vinci il predominio uccidi il personaggio equipaggiato che è tanta roba o rubi un drago però siccome i draghi non è che ce ne sono tanti e non c'è modo di dare i tratti come facevamo una volta esatto esatto non è così il massimo quindi subentra ma l'altro è fortissimo tra le dieci carte puoi trovare se tu l'hai appiccicato a un forza 1 vinci il predominio vai a cercarti magari il manzo da 7 lo metti in gioco è tanta roba magari lo appiccica un personaggio che poi ti ritorna in gioco si rianima con i vari effetti di rianimazione non è male è un tutore che costa 3 costa 3 costa tantino però vabbè secondo me è ottimo costa tanto è un tutore che costa 3 però ti dà però no il fatto è che non è solo un tutore fa uno scambio megagalattico fai conto che tu magari lui l'hai messo sopra uno non è solo un tutore perché mette in gioco mette in gioco è tantissimo tu magari l'hai pagato 3 su un personaggio di merda ti vai a prendere euro nel butto in gioco perdonami ma io lo farei tutti i modi non male questo diciamo che la parte sul drago sembra più fervore a questo punto sì in effetti ma sì magari può anche essere che la usi poi adesso stanno uscendo i draghi adulti non è detto che tu non la usi no prima o poi però secondo me se hai la possibilità di prendere un drago eccezionale che ti serve tipo magari il nuovo drogon che è stato spoilerato Cazionazzi ok va bene ma se secondo me verrà molte volte più usato per trovare un tuo personaggio grosso e metterlo in gioco a poco prezzo ok passiamo ai Targaryen questo qua l'abbiamo già visto personaggio che comunque ricorda vecchi assassini peccato che funzioni in maniera leggermente diversa no vabbè mi sarebbe piaciuto di più vedere l'assassino prezzolato vecchio però questo ha il suo perché è comunque un personaggio ombra di costo 2 forza 1 con militare e intrigo gli stessi icone più o meno che aveva anche l'altro assassino è un mercenario ha ombra 2 quindi 4 totale tra schieramento e far uscire dalle ombre reazione dopo che l'assassino prezzolato è uscito dalle ombre guarda una carta nelle ombre se è un personaggio puoi collocarlo nella pila dei morti del suo proprietario è carino però dipende al crescere dei personaggi ombra lui diventerà sempre più forte magari sarà più forte in prospettiva al momento è comunque carino perché secondo me io sto pensando anche sull'Emirror Match se vai primo metti dentro questo assassino prezzolato nelle ombre e gli fai secco Aegon Targaryen le cose cambiano al momento la cosa bella di questa carta ombre è il fatto che almeno quando metti una carta in ombre Targaryen qualcuno magari anche sospetta potrebbe anche avere il sospetto che non sia Aegon attenzione ce n'è un'altra e adesso con la seconda ce n'è un'altra questa qua è un'aggiunta un'aggiunta ombra però costa 3 costa 3 ombra 2 quindi fondamentalmente risparce ora paghi 4 diciamo così sono personaggi non lady ah 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 guardia della regina per forza perché è la guardia della regina certo giusto questo dell'illustrazione dovrebbe essere Baristan Selmy credo da giovane pure ma vabbè anche da anziani c'è i capelli bianchi però sembra bello questante vabbè azione solo personaggi non lady ombra 2 ok azione scarta una carta dalla tua mano solito chissà perché per rialzare il personaggio con questa aggiunta di limite di 3 volte per round è forte non è male però non capisco solo personaggi non lady mi va bene l'unica cosa è che comunque secondo me è un cioè i personaggi forti da rialzare da poter pensare di rialzare normalmente comunque sono tutti lordo lady magari non per i Targaryen per dire allora tu dici perché non mettere il sigillo del primo cavaliere esatto questo qua potrebbe stare bene per esempio su Dario Naris per dire che non è un lord non è una lady si rialzare e questo qua lo puoi far rialzare senza l'ausilio di una carta come il sigillo del primo cavaliere ma se uno visto che la carta non è fedele la dovesse mettere in un mazzo per rialzare un suo personaggio o anche su Mirri magari eh magari anche su Mirri però la verità è che i Targaryen cioè per rialzare hanno un mille altri effetti questo qua è pure costoso mi sembra non mi sembra un bonus purtroppo non gli da nemmeno un bonus una keyword un bonus in forza niente gli da nulla solo quell'azione e più devi anche scartare dalla tua mano per rialzare diciamo che non c'è però una questione non c'è una restrizione di carta Targaryen non c'è una restrizione di costo è vero per dire però non lo so cioè no non mi ha convinto la cosa che ha fatto no beh ok passiamo ai Martell sì ai Martell vediamo un po' cosa gli hanno dato allora il primo è un amico di un amico di Quentin che mancava l'appello Archibald Ironwood costa 5 praticamente o beh ombra con praticamente ombra 4 quindi in realtà praticamente con ombra ti costa 6 sostanzialmente ok allora lui è un forza di un punto un oro in più praticamente facendo passare dalle ombre quasi sempre allora ha monoiconato militare con forza 5 ha aggiunte vietate tranne arma ombra 4 come abbiamo detto anche tratto cavaliere non è fedele e ha una reazione soprattutto che ci dice dopo che hai perso il predominio l'avversario vincitore deve scegliere uccidere un personaggio che controlla qua va in un parallelo con la trasera delle sabbie che ti faceva pescare scartare pesche scarti secondo me allora poi dipende io ho visto questa carta comunque è stata spoilerata da poco abbiamo vista carta strana secondo me io ho visto gente lamentarsi per il fatto che comunque sia un personaggio moniconato quindi un po' inutile però effettivamente secondo me il suo effetto in alcuni casi può essere molto forte lo fa a prescindere dalle sfide dalle sue sfide cioè lui può sfidare può non sfidare può fregare altamente può essere lì basta che sia lì non è che cioè fondamentalmente non è che cambia molto il fatto che poi quanto lo usi nelle sfide non deve vincere una sfida far cose niente cioè a me non sembra male soprattutto per i mazzi martè che vanno in Uber d'emozione eccetera è così non è malissimo beh io ti dico alla fine tendono a lasciare sempre in campo roba buona cioè nell'eventualità che ti hanno rimbalzato qualcosa comunque tu cerchi di tenerti roba buona in campo questo devi solo perdere il predominio non lo so a me piace una carta che secondo me è questa è forte rompipalle le solite carte martello rompipalle allora seconda carta martello è l'economia non limitata a costo 2 fedele e non unica che abbiamo visto un po' per tutte le casate questa si chiama porto del mare dell'estate a tratto d'orna non ha testo di gioco ci dà un oro e più uno alla riserva perfetto cioè quello che interessa alla casata sostanzialmente oli e riserva di mano ampia per gestire non è non è non è limitata come tutte le altre per me è una bella carta ok passiamo alle carte neutrali carte neutrali allora iniziano con un personaggio dei sette magari uno avrebbe un po' bisogno ne avrebbero però allora vediamo un po' questo qui è un personaggino piccolino ha un costo 2 forza 1 con l'icone militare e potere si chiama poveri compagni ha il tratto esercito e i sette vabbè aggiunte vietate esercito forza 1 no? fatto di eserciti straccionissimi di gente veramente reazione dopo che hai vinto una sfida in cui i poveri compagni stavano attaccando l'avversario sconfitto sceglie se fare ottenere un punto potere ai poveri compagni oppure farti pescare una carta cioè chiamano punti mi possono chiamare anche sotto l'agenda dei sette perché hanno fatto i sette e oppure ti fanno pescare c'è da dire devi vincere una sfida con questo personaggio che fa veramente un po' diciamo sì lo so lo metti insieme agli altri però ci vinci le sfide insieme alle altre gente però il punto è secondo me ti daranno sempre il potere probabilmente è un personaggio fragile almeno all'inizio non credo che funzionerà allora andando avanti abbiamo la location grossa neutrale che dà il nome diciamo al chapter ecco io l'unico problema della location a costo 4 in questo momento neutrale che comunque non potendo essere fedeli li vede un po' deboli però allora vediamo cosa fa è approdo del re location unica tratto approdo del re guarda un po' dice una volta per fase di schieramento puoi schierare un luogo dalla tua pila degli scatti come se fosse nella tua mano quindi una volta ti fa rischierare i luoghi dalla tua pila degli scatti quindi magari se giochi tipo le vecchie strade del re puoi rigiocare per dire se ti hanno spaccato qualche location importante da puoi rigiocare e poi ha un'azione di sfida che dice in ginocchia approdo del re e scatta un luogo dalla tua mano per pescare una carta non lo so per una location carta un po' così costo 4 non fedele tannuta effetto limitato c'è neutrale a costo 4 per gli effetti che ha mi sembra comunque c'è un investimento grosso da farci sopra comunque è deboli a tutto è deboli agli imbarzamenti allo sbiancamento agli spaccamenti di qualsiasi genere non è meno limitata cioè nel senso subisce le peggio cose subisce troppo e non è neanche l'effetto forte è quello di poter rischierare eventualmente ma non so neanche quanto sia una bella idea beh sì dipende per fare una doppia kings road non credo allora andiamo avanti vediamo la candela di vetro che è una giunta neutrale ha il tratto cittadella e oggetto costa 1 solo personaggi che controlli se il personaggio con questa giunta possiede il tratto maestro ottiene intuizione quindi da intuizione maestro non è malvagissimo non è malvagio mazzi maestri praticamente non se ne sono listi però l'intuizione sarebbe quella che va a braccetto con l'agenda certo infatti perché almeno metti sopra e peschi subito certo azione di sfida in ginocchia la candela di vetro per guardare una carta dalla cima del mazzo di un qualsiasi giocatore e puoi scartare quella carta che va anche qui un po' bonus sì ma beh a te non interessa in realtà così puoi scartare te la auto scarti così pescherai qualcosa di più utile no per attivare free a button perché eri messa da fuori sopra la scarta e poi pesca a caso certo perché no è grande è una bella idea non lo so l'azione di sfida non mi sembra una buona cosa è l'ennesima carta che ho potuto commentare in funzione di free a button ragazzi pure questa qua vabbè vabbè dai abbiamo la trama forse consoliamoci con la trama abbiamo una bella trama tregua precaria quindi sarà una roba tipo dal tratto guerra no invece è ditto vabbè 4-5-1 quindi 4 di rendita sì 4 di rendita 5 di iniziativa che in realtà è buona è buona è media praticamente sulla media 1 di rendicazione 5 come riserva 5 di riserva di mano che è un po' sotto vediamo ogni giocatore può ottenere punti potere per la sua fazione solo durante le sfide bello blocca 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 le tanto odiatissime testa sulle picche testa sulle picche blocca il tavolo trono blocca la dominance i tailer che fanno rivelo 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 oppure faccio uscire prendo punto beh potrebbero farlo sulla sfida quella è un'azione normale durante dovrebbero farlo durante la fase di sfida sì durante le sfide sì però potrebbero farlo in mezzo alla sfida fermo fermo durante le sfide non durante la fase sfida sì però potrebbero farlo in mezzo alla sfida come azione durante la sfida comunque possono farlo va bene però ok ma blocchi i mace blocchi i mace un po' anche lì a meno che non lo attivi durante una sfida no nemmeno perché rientra alla fine beh oddio blocca i mace blocchi le teste sulle picche se viene giù di ambush no non lo blocchi no così no durante di ambush durante le sfide no o di fiabotto durante le sfide no però intanto cominci a mettergli un po' di freno blocchi i testa sulle picche winter festival sì e beh queste cose qua sostanzialmente blocchi sì beh però per adesso non è neanche un brutto effetto no reazione obbligata dopo che una sfida è stata lanciata sposta un punto potere dalla carta fazione del giocatore attaccante alla carta fazione del giocatore difensore ah è a limite nel mazzo delle trame uno allora quindi dopo che una sfida è stata lanciata sposti un punto potere dalla giocatore attaccante vabbè me li ridarai forse se poi sfidi non lo so non lo so è molto strana potrebbe essere una trama stallo tipica stallo è il motivo per cui si chiama tre go precarie immagino è una tipica stallata sì night watch oddio ma per dire night watch martello se non hai punti sulla tua carta casa per dire tu esageri qui se ne frega va fanculo io rispido te le dichiaro poi tu hai punti vedi tu tu non hai punti in realtà tu non sposti niente io infatti non sposto niente poi dopo il mio avversario che invece magari ha punti sulla sua carta casa decido sì 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 a me non ha sfida perché se poi me la lasciano troppo basta non fai altre no vabbè è un effetto strambo è una carta da stallo secondo me comunque non è malvagissima potrebbe essere più che altro non capisco il limite mazzo delle trame 1 perché non è così potente forse non lo so forse per la prima parte dell'effetto perché brocca quella è una buona parte dell'effetto sì brocca ebbe un po' troppo oggettivamente mazzi che comunque chiamano punti fuori dalle sfide che è la parte secondo me per cui alla fine che sarebbe sì che poi sarebbe la parte sfigata del gioco alla fine io preferisco chiamare punti durante gli sfidi però però bene direi che anche con questa trama praticamente abbiamo chiuso il chatter abbiamo visto tante carte ombre rispetto al precedente un po' per tutte le casate direi abbiamo visto arrivare anche qui rispetto al secondo sono tornate un po' le trame quelle delle trame i luoghi quelle delle casate che danno economia non limitata forse forse i network non hanno non hanno il luogo perché loro sapete che di luoghi potrebbero avere potrebbero avergli dato quell'attachment lì e basta secondo me perché non è limitato potrebbe essere che hanno fatto questa scelta di non dargli il luogo ma di dargli l'attachment quello lo vedremo a fine ciclo lo vedremo va bene comunque diciamo che si sta definendo un po' di più questa dinamica delle ombre anche con alcune interazioni con altre carte diciamo non ombra eccetera o abbiamo visto anche carte come per esempio l'assassino che interagisce pesantemente quindi in un meta che si prevede in futuro comunque con tanti mazzi che giocano ombre e quindi vedremo vedremo carta bomba del mazzo questo qua è il mazzettino no certo stavo pensando no boh non lo so io direi il cornazzo il cornazzo Greyjoy il corno è bello il corno è molto bello il corno di Greyjoy il corno di Greyjoy o maestro Tyrell maestro Tyrell ma anche ma anche il tutore Tyrell all'inizio partita può diventare devastante ragazzi devastante cioè con tre ogli magari ti fai la mano di Mergeri Mace e compagnia in company magari è una delle location che magari ti manca che non è in gioco e poi ti guarda e dice ah bene ti do quelle tre quelle tre lì perché non c'è altro no è vero che è un po' limitato alle 4 di essere sì belle carte Tyrell qualche carta carina comunque anche il counter la carta del campione Greyjoy non è così male secondo me no perché è duttile comunque quindi vabbè vediamo va bene direi che con questo è tutto vi rimandiamo ai nostri prossimi video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto comunque siete delle persone pessime se ancora non vi siete iscritti al canale oggettivamente iscritti al canale e ci dicono dalla regia Pietro Veneroni iscriviti al canale Pietro Veneroni sei un rientri sei una persona orrenda che non si sono iscritti al canale quindi qualcuno iscriva Pietro Veneroni al canale e va bene insomma vi salutiamo al prossimo video ciao ragazzi vabbè siamo arrivati alla parte sincera ma io non so più se farlo o no non la facciamo più no ma perché ma perché sono troppo sfigato alla fine dico sempre ah questa merda questa qua tavolino questa qua senti però questa qua merda e poi la caprette ci ha inculato la capretta ci ha incaprettato però vabbè ragazzi era sentimento era sentimento io non potevo sapere che con le caprette ci facevi un casino della madonna io in realtà pensavo che quella carta lì fosse una merda fotonica non abbiamo notato il trattore sirgo e lì un po' c'è ecco quella forse un po' ci ha incaprettato però più che altro vabbè lo faccio lo stesso facciamo lo stesso vabbè allora la tregua precaria la trama fa cagare strano strano la candela di vetro fa scurreggiare invece la prodo del re è carta da caminetto completo i poveri compagni sono proprio poveri compagni fanno proprio schifo a Gesù vabbè questa sono tutte tragicamente belle comunque anche quella martel purtroppo questa mi sembra una carta forte purtroppo visto che è martel va schifo vabbè allora per adesso diciamo diciamo per adesso fa veramente vomitare poi magari diventerà fuori per me la carta bomba del mazzo è questa carino poi è dio abissale quindi ci sta questa qua è la carta non limitata l'annister è forte almeno una questa qua invece ogni volta che qualcuno giocherà questa carta un nimmer piange forte gran bella carta barateon altra gran bella carta barateon sono contento comunque perché erano anni tipo che non gli arrivava un cazzo un po' costosa però no vabbè ci sta ci sta ci sta carta incomprensibile ma vabbè è la loro economia sarà forse hai ragione te sarà la loro economia a vederlo così fa schifo ma non mi importa carta ok magari poi quando si useranno sotto costo per attaccare per attaccare altra carta bomba del mazzo tutte e due le Tyrell sono belle quindi inutili non ci parlo bella e bella bella disegno inquietantissimo ma proprio inquietante fatto da musetti il disegno è bello è lui che è inquietante mi inquieta di brut secondo me questa qua fa proprio cioè non lo so è un Dorn brutto non lo so Dorn ma Dorn brutto Dorn brutto Dorn brutto e questa qua ogni volta che qualcuno la gioca uno Stark piangerà non lo so ma vabbè insomma è carina comunque può fare vantaggio a carte quando non ne hai non è male no ma ma c'è un mazzo con Friabotton sta carta Dio Bono e vai basta avrò sbagliato tutto? provabile però ormai siamo abituati sì va bene insieme ai commenti sui nomi dei personaggi che non conosciamo in questo chapter molto bene ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti